musica 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 oh guys salve a tutti sono questi giochi e benvenuti in shoot me frenia frenia oh diavolo che è shoot left mouse laser right mouse bullet camera middle mouse with slow mo quindi gente questo è un random indie che ho trovato molto interessante posso iniziare? uh con spazio si inizia in cui lo scopo qual è? non è uccidere nemici, fare l'eroe eccetera eccetera ma sperarsi da soli oh mio dio ce l'ho fatta sei chattata la prima colpa oh mio di nuovo record per espi, nuovo fattuto record per espi come on, ok prossima catch your bullet oh così veloce danazzina come faccio a prendere il proiettile ok riproviamoci a col destro si può utilizzare il laser uh che figata ok proviamo a spararlo un po' in qua oh aspetta incliniamoci un po' magari in questa direzione no in quest'altra direzione oh 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 no sono caduto sono caduto ho provato a prendere proiettile ma sono caduto non importa riproviamoci bam oh yeah diretto al cuore diretto al cuore gente ci stiamo uccidendo da soli molto 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 educativo questo video molto educativo allora utilizza il tuo laser oh 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 molto interessante vediamo se sparo così a parte per la tangente ok sempre inclinato sempre a sparare ah attrazione sempre così what the fuck sponiamo così nooo così 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 yes mia ha 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 shot headshot mezzo agli occhi good job espi sei il migliore a ucciderti da sola not direct non direttamente ehm bounce it fallo rimbalzare molto interessante vediamo se basta fare what ok secondo me basta mettersi qua perchè è l'ultima casellina vediamo woohoo mamma mia la precisione la precisione gente è qualcosa di epico la distanza conta va bene ok mettiamoci qui in fondo bam no fallito bam what the fuck ok bam ah no ok forse è un po' più vicino forse bisogna mettersi vicini oh no no what the fuck oh per piacere what the nooo ancora più vicino yes oddio dov'è che mi ha beccato oh mi è partito un ginocchio un ginocchio mi mancherai tanto un ginocchio ok allora up ehm up goes ok qua bisogna sparare in alto vediamo che cosa dovrebbe andare in alto wiii e dove è andato è partito vabbè ah come al solito mettiamoci qui in fondo vediamo che succede what the fuck ok ok di nuovo noo un po' più in basso oh yeah headshot bitch headshot da soli should cosa align dovrebbe allinearsi ehm ehm vabbè non sarà tanto facile what ok vabbè quanto ci possiamo muovere in questa piattaforma non troppo ok così ah mio ah fuck ok al volo dobbiamo prenderlo al volo ok dobbiamo correre e prenderci il nostro bel proiettili in mezzo agli occhi oh yes saltate gente saltate per prendere i proiettili quello che vi insegna espi giochi il canale più diseducativo di tutto il web tutto il web jump to catch wap oddio l'avevo quasi preso oh mio dio quasi al primo al primo ah fuck ok ok di nuovo con molta calma espi ah maledetti cosi salta ah dannazione ok allora forse da più distante sprendilo oh 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 caviglia ciao ciao let's go allora here we go molto interessante cos'è che oh mio dio tre specchi piu 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 no non funziona piu ah dannazione ehm forse ok forse ho capito devo mettermi uh perché ci sono queste belle isolette qui ah ah forse devo esatta fare una cosa molto ah no oh 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 questo era epico questo era epico così piu 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 è partito come diavolo si fa questa cosa ok riproviamoci riproviamoci allora here we go ah attanazione vai mio ah fuck mio 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 no ah Cristo sono caduto ok calma espi ce la farai riuscirei a spararti negli occhi un'altra volta via no 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 mamma mia oh mi ha fatto lo scalpo troppo per te o cristo dove va è questa una bella domanda allora fammi pensare forse devo saltare no non funziona forse devo fare più ok ok ci sono da di qua perché questa piattaforma c'è qui per una ragione piu 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 è inutile che fai i pepigoli spia inutile ho trovato il punto ho trovato il fottuto punto che hanno l'ho mancato cristo che so mio 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 fottuto bastardo se si 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 salto se lo vedo vieni a dannazione ho mancato io un pelo ok non importa non importa proviamoci di qua ok calma è un po di beatbox magari un po più di qua no donnazione perché non funziona mi posso chinare magari ma faccia ok vediamo magari un po più così ok ok molto più facile da qui ehi wait perché fallisci così o mio gioco sei impossibile mio fatta fuck mio oh yes finalmente abbiamo passato sto pottuto causo triplo o goes around goes around cosa vuol dire what goes around oh oh ma che figata si possono vedere gli altri livelli da qui c'è scritto fra faith fede fede molto interessante what goes around goes around no 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 un po devo fare un po più così vero uuuhh c'ero tanto vicino cosi ma prendono fuoco come così sbaglio what the fuck cos cosi 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 no cosi cosi un po più così oh mio no 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 Maledetto affare, maledetto affare, mi confondi così tanto, stupito coso, stupito affare, ah, Cristo, ok, qui, oh, l'aspironebrao in questi giochini, avete capito, no, 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 ok, devo inclinarmi un po' di più, questo l'ho capito, e fin qua c'è, ah, ah, mio, 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 se, l'ho preso al volo, fuck it, gg buffon, espy, gg buffon, shh, shut up, shut up, got to, got, got to you, me lo so, vabbè, non, what the fuck, c'è una scala, ok, son caduto, ma, mia domanda, mi posso arrampicare su quella maledettissima scala, no, ok, non mi posso arrampi- vabbè, holy shit, guardate gli effetti grafici, che figata, comunque, ehm, mi sa che bisogna fare tipo i super trick qua, oh, questo l'ho capito, ho già capito, piu, no, un po' più in basso, dall'angolino qui in basso, oh, oh, c'era tanto vicino, mio, oh, mamma mia, le abilità, le aschili, le aschili, le aschili, leap of faith, il salto della fede, oh, figata, adesso faccio come Ezio, faccio come Ezio, proviamo a fare, piu, oh, questo vuol dire, sapete cosa vuol dire, questo di lanciarsi, lanciarsi ogni fottuta volta, piu, piu, dannazione, provo a mettermi, ok, mi sa che bisogna mettersi qui in fondo, sparare così, piu, piu, oh, oh, ok, quindi bisogna buttarsi, così, via, subito, instant, per questo che è un salto della fede, ok, no, espi, idiota, sei un idiota, espi, me, oh, cristo di pochissimo, ok, ok, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ha mancato, ok, 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 non importa, fate finta di non aver visto nulla, espi ha fallito miseramente, piu, piu, no, dannazione, così vicino, era così vicino, espi, perché non salti prima, espi, perché sei così ritardato, dai, su, poi, di nuovo, ok, ok, con molta calma, piu, piu, oh, no, 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 non cadere, oh, mio dio, è un headshot poi, non è, mi ha beccato la caviglia, la gambina, eccetera, no, un headshot, hai finito, la build, della, della, sette, sette dei FPS, congratulazioni, grazie per aver giocato, e questi sono i, babà, i, i creatori, qua c'è il tweet a solito a seguire questi tizi, molto interessante, oh, mio dio, è pieno di pottote, pottote cose, more, 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 ah, qua cosa c'è scritto, w, 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 no, will, ce ne sarà ancora, bello, ce ne sarà ancora, questo gioco è una figata, quindi, al prossimo episodio, mi raccomando, mi piace, commentate, iscrivetevi, e vi lascerò il link in descrizione per questa cosa, eh, e, oh, mio dio, c'è ancora, c'è ancora, uh, uh, ma aspetta, forse questo vuol dire che non è finita qui, mio, no, 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 fottuto cosa, continuiamo, continuiamo, gente, questo è finito, no, lascia, mio, fottuto proiettile, oh, yes, cosa succede ora, cosa succederà ora, finita, oh, yes, ok, perfetto, quindi, gente, questo era, questo era, shoot me frenia, shoot me frenia, fottuto, diavolo che, al prossimo episodio di Random Men, un saluto a Espi Gioca, il link in descrizione, ciao, ciao. Se questo video ti è piaciuto e non vuoi perderti i prossimi, ricorda di iscriverti al canale, mettere mi piace e condividerlo sui tuoi social network preferiti, non dimenticare di commentare per farmi sapere la tua opinione, metti mi piace alle pagine Facebook e Google+, per rimanere aggiornato e parlarmi in maniera semplice e diretta. Detto questo, al prossimo video, ciao, ciao. Ciao.